Il giocatore, il giocatore, molto fantastico! Complimenti ai tecnici, complimenti alla società, alla famiglia di Rosa che veramente sta facendo un bellissimo lavoro e noi come Catania siamo orgogliosi. Sì! 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 Io devo dire che questi due giorni mi sono passati veramente meravigliosi, con gli allenatori, abbiamo lavorato sugli habitat di lavoro, sulla metodologia e abbiamo veramente rotto il ghiaccio, ma piacevolmente devo dire che c'è un'assistenza ma un'attenzione dal lavoro che è veramente molto maniacale. Sì! 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 Sì!